Pancet Dosi o Copaparo? Chi vincerà? Il singolare derby politico-gastronomico è in scena in un esercizio commerciale di Via Nova a Piacenza. Il negoziante ha addobbato la vetrina prendendo spunto dalla cronaca politica di questi giorni che vede in corsa per il ballottaggio alla poltrona di sindaco i due candidati del centro-destra e del centro-sinistra. Un match politico ma anche gastronomico tra due dei salumi principe della nostra gastronomia. Chi propende per uno, chi propende per l'altro, chi per Dosi, chi per Paparo, chi per la pancetta, chi per la Coppa Piacentina. Chi vincerà?